Eccolo qua il Pagliaccioz, il Corsia Box a Monza, dopo il semaforo si può andare, vai! Teniamo la destra fino ai 150 metri della curva, poi ci spostiamo sulla sinistra, spostati, ok, ruote dritte, frena forte, frena, di più, 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 aspetta a girare, dentro in curva, vai, dentro in curva e giù tutto gas, questa si fa piena, non cavare una virgola, giù pieno di gas, pieno, pieno, non mollare il gas, giù il piede, giù, giù, vai, 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 cazzo, ci si è stretto il culo, ci si è stretto, stai a destra, a 200, frena di brutto, forte, di più, di più, buono, molla il freno, vai, sfiora, via, giù tutto, vai, frena forte, frena forte, aspetta, dentro, giù tutto, ruote dritte, frena forte, di più, dentro, giù tutto, hai frenato troppo tardi, troppo poco, vai, vai, appena dopo i 200, frena di brutto, frena, frena, ok, molla il freno, entra, stai sul cordolo, stai su, stai su, stai su, stai su, stai su, via, giù tutto, lasciala andare all'esterno, spostati a sinistra e sorpassa, facciamo segnare, frena forte, di più, di più, di più, ok, dentro in curva, stai dentro, stai dentro, giù tutto e lasciala, allarga la curva, allarga, 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 tutta, e vai a prenderla sta scatoletta, vai, tieni giù, cazzo, vai, sferniciamola,